Vabbè... E' pronto per il matrimonio? No. Come no? Non c'è ancora pronto per il totale. E' questa è la casa di matrimonio. Tu non vieni in Italia? Sì. Guarda qua. Dacci uno video. Ma dico. Dacci uno video? Sì. Sì. Ma te ci stanno? Allora poi mi ne basta tu quando si vede. No no. Sì. E' qua. E' qua contro che sei stato da cowboy. Ecco i signori prima di matrimonio. Ah, carabinieri? E' ancora un bravo. Oh, carabinieri non fanno, eh? Anche quanti, signor? Oh, è stai! Non sono un carabinieri, sono quanti. Ah, un poliziotto, giusto? Ha freddo? Sei un preservativo? E' infatti. Ah, io non faccio buono, non faccio buono. Ah, che cosa dà? Ah, 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 ah. Adesso, non sto coso in mucca! Ehi! Vabbè qua, allora. Chi è? Ma che? Dici zombi! Abbiamo uccidere! Sente che non stai... Ah, ah, ah. Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! dai strunzo ma quando mi ha lasciato? ma ma sti cosa? no adesso ok poliziotto infame no no noi siamo oh no poliziotto è terribile ahahah si può vincere al o siamo i non si non si non si non si non si non si va a me oh vabbì oh cazzo non cosa ho portato oh ma ci mi ce lo passo ci mi ce lo passo oh ci mi ce lo passo in cadere non ti preoccupi in cadere non ti preoccupi aiut vaiù non ti amo vaiù non ti amo vaiù non ti amo che va a fare una pica di bia di bia di bia